Ho incontrato i familiari di persone che sono tuttora sequestrate da Massey, familiari di persone che sono rimaste uccise nell'atto di terrorismo. Io ho espresso non solo la vicinanza, ma anche la certezza che tutto quello che l'Italia, io personalmente, poco, ma qualunque sia la possibilità potremmo fare, sarà fatto. Ho detto loro che l'obiettivo dei terroristi non è certo quello di aiutare la Palestina, al contrario è quello di rendere sempre più lontane possibile una libera e pacifica convivenza di israeliani e palestinesi. E solo chi pensa che sia giusto che Israele non abbia il diritto all'esistenza può continuare a mettere sullo stesso piano l'atto di terrorismo e la reazione di Israele.